Nome Roberta. Marco. Disciplina. Danza moderne. Il popolo con Tamirani. Descrivi ad un aggettivo la scuola. Energia. Completa. La danza è? Vita. La danza è? Gioia e dolori. Che cosa pensi delle danze attuali? Attualmente c'è una moda che io non amo la moda, io amo l'eterno, quindi la moda nasce e finisce, l'eterno è per sempre. Che cosa pensi delle danze eterne? Se sono eterne ci sarà un motivo, le apprezzo assolutamente e apprezzo tutto quello che è anche nuovo in realtà, perché il nuovo potrebbe diventare eterno per qualche tempo. Che cosa pensi del modern? Eh, l'ho apprezzo molto, l'ho apprezzato poi crescendo, anche un po' maturando e pensando ad altre cose, non solo a quello che era solamente il mio. Penso che ci siano tante cose da imparare, da modello. Cosa pensi della street dance? Beh, è una danza di strada, è uno stile, è bello, divertente, energico. Contenuto o forma? Contenuto e forma. Contenuto, sentate! Taro! 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 Grazie a tutti.